Musica Benvenuti a questa nuova edizione di questo non è TG, scienza. Chi vi parla è Dario Licanzi. Trattiamo due argomenti, animali e riscaldamento globale. Sony lancia la sfida a iPod Apple. Animali e riscaldamento globale aumentano zecche, pulci e vermi che portano malattie pericolose. I cambiamenti climatici fanno male anche agli amici a quattro zante. Zecche, pulci, vermi e altre malattie di cani e gatti si stanno diffondendo. In Europa toccano paesi finora a riparo. Lo rivedono due studi pubblicati sulla lista Veterinary Parasitology. È emesso che le zecche si sono smitte in zone europee, prima per loro proibitive come Germania, Polonia, Olanda e Belgi. Anche il verme di Irofilaria, portato dalle zanzare, è sempre più diffuso in Europa centrale. Sony lancia la sfida a iPod Apple, un Walkman Touchscreen con nuova tecnologia OLED. Sony sfida l'americana Apple nel mercato dei lettori multimediali, lanciando un nuovo Walkman Touchscreen con schermo a tecnologia OLED. Presentato oggi nel quartier generale di Tokyo, il player digitale, battezzato NWX1000, presenta uno schermo panoramico da 3 pollici, il Wi-Fi per connettersi a Internet e un'antenna per ricevere la TV mobile digitale. Il Walkman A, 300 e 375 euro per le versioni con 16 e 32 GB di memoria, debuterà sul mercato mimponico il 25 aprile. E per questo è tutto per questa edizione, arrivederci e alla prossima.